Uff, questa vita da criminali mi sta distruggendo, sono proprio stanco Che ne dici di prenderti un giorno di riposo? Ottima idea, non capisco perché Allora, non criticare i registi Guarda, 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 si è lanciato a tuffo L'elicottero è scioccato, aspetta Pua E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E sono Stef, e che sei giocato in GTA V E siamo tornati nell'online e nella nostra serie Quest'oggi però ci prenderemo, diciamo, una giornata di relax Faremo tutte attività calme, tranquille Perché questo Motorcycle Club ci sta davvero facendo faticare Cioè siamo sempre lì, sempre a lavorare, sempre a prendere scorte, sempre a fare missioni Direi che una vacanza ce la meritiamo pure Esattamente, prima di tutto devo cambiare i vestiti del personaggio Perché è ancora vestito come nella challenge dove stavamo raffinando i negozi Sono disgraziato, quelli sono solo per la challenge Esatto Erano esclusivi Ho bisogno di cambiarmi i vestiti dato che tu lo hai già fatto Poi stavo pensando che possiamo vedere ovviamente i tatuaggi Perché dobbiamo recuperare quello dello scorso video Assolutamente sì Quello del nuovo video lo dobbiamo decidere e non sarà per nulla semplice Perché appunto facendo un giorno di riposo sarà diverso Poi pensavo magari tipo un po' di tennis o di golf e il cinema Eh? Sì, sì Oggi proprio super rilassati Esattamente Facciamo tutte quelle attività tranquille Per non stare sempre a sparare e così via Sempre a sparare, uccidere, rubare Allora Come un tatuatore non si dovrebbe spaventare nulla? Ci sono gli sconti Eh vabbè Schiena, braccio sinistro e braccio destro Perché non facciamo i pazzerelli e facciamo subito anche l'altro tatuaggio? Sì, sono d'accordo Così cambiamo Ho già cosa andremo a fare Ok, allora Allora, oggi subito Aspetta Quello che devo recuperare Dov'era? Gamba Io dove ce l'ho? Ho detto Gamba sinistra Perpetiamo a modo nostro Quindi Ma va bene così I tatuaggi li abbiamo totalmente recuperati Trovo un altro e preparati per la sfida a retromarcia Mi state sfidando a fare le retromarce? Io sono bravissimo a fare le retromarce Attenta, attenta, attenta C'è un player Vuole disturbare il nostro giorno di vacanza Te ne devi andare Io lo sparo No, che poi ci attacca Oggi abbiamo detto niente armi Eh, ormai è morto Perfetto Va benissimo così Grazie Quanto stai spendendo? Ho speso 30.000 Io ne ho speso 150.000 Lo so Quindi Non ti posso dire nulla Però siamo bellissimi Guardaci Grazie Guardaci No, 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 no Aiutami Ma che cosa aiuta? Me la prenditela solo con lui Io non c'entro niente Allora, so cosa fare So cosa fare Mi sta distraendo Mi sta disturbando No, l'ho mancato Disgraziato Ok, è morto Ti volevo dire qualcosa Poi il tipo ha iniziato a spararci E mi sono dimenticato E ti ha distratto Ok Sì, sì, sì Era qualcosa di importante Che sentivo Ah, sì Che non ti ho detto Che i vestiti Ok, li ho pagati con i soldi Del club Eh, lo so Per quello ti sto dicendo Sì, è un disastro Guarda che se non ci esce Qualcosa del club Solo perché tu hai speso questi Cioè, te li metti di tasca tua Te li vai a farmare E li metti di tasca tua Ok, va bene, lo accetto Te lo dico Comunque Ferinichi Utilizzerai i suoi soldi Che ogni volta ce lo chiedono E non ne abbiamo ancora parlato Perché ci dimentichiamo sempre Utilizzerai i suoi soldi Per la Kuruma O Kurama Kuruma mi pare La macchina blindata La macchina blindata Perché poi me lo stanno Sempre scrivendo in tantissimi Io mi dimentico sempre Di dirlo nei video Allora, praticamente ho controllato Lo shop E ho notato che si sblocca Se non sbaglio Con le rapine Perché io al momento Non la vedo Quindi non appena faremo le rapine La sblocchiamo E la comprerò Perché sarà fighissima Da utilizzare nelle missioni È una cosa che serve Per tutti e due E sarà molto comoda E mi sembra esatto Un modo giusto Per spendere i soldi Vieni, dobbiamo fare La gara di retromarcia È deciso di fare la gara di retromarcia Sì, 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 sì Mi stanno sfidando C'è Luna, Ranaconda Sneaker E Psych Gamer Ok È il mio momento Tutto in retromarcia Devo arrivare almeno terzo Almeno la medaglia di bronzo sarà mia Le vedi che i nostri personaggi Stanno ballando Perché c'è la musica Ma davvero? Io le vedo fermi Guarda il mio schermo Aspetta Vedi Vabbè E nel momento Continuo a ballare retromarcia No perché io ho la radio tolta Quindi evidentemente Da me non ballano Per quello Loro sono già entrati Nella mentalità relax Sì, sono proprio felicissimi Poi per quanto andiamo lenti Con questa retromarcia Poi c'è guarda A te che ti viene in mente L'idea di fare la retromarcia Quindi Potevo pensare a qualcosa Di più divertente Direi soprattutto Con una macchina un po' più veloce No? Faceva comodo Io non sono mai andata al cinema Su GTA 5 online Ti dico la verità Ah sì? Non so Non ho idea Né se si possa entrare Né se ci sia qualcosa da fare Spero che sia un errore In cui è aperto Allora vediamo 20 dollari per l'ingresso Vai Vai Vediamo cosa Allora C'è un tizio Scala Altissima Che non si sa come rimane in piedi Cos'è questa cosa? Ed è appena finito Me lo spieghi? Dedicato a mia madre Ci siamo entrati con un film iniziato Può anche zoomare Guarda Aspetta Zoom Uè Che bello Che poi vediamo cose diverse Ci sono esplosioni Macchine che bruciano This summer Questo è sta Ah ma è un trailer La statua della libertà che crolla Aspetta Questo è uno di quei film Post-apocalittici Capito? Belli belli quelli Guarda guarda c'è il militare che sta scappando nella foresta Perché stanno seguendo una scimmia? Perché sono di qui fin tipo King Kong Capito? Sì ma è una scimmia normalissima che scappa da un elicottero e da un militare Non capisco perché Allora non criticare i registi Guarda 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 si è lanciato a tuffo L'elicottero è scioccato Aspetta Toglio regia Non me lo aspettavo Non ero pronta a queste cose Mai fidarsi di GTA Io stavo anche guardando il film interessata Giusto? Vabbè Esci 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 Mi ha traumatizzato Mai fidarsi di GTA Non sarò più la stessa dopo questo film Penso che farò gli incubi per almeno un mese e mezzo Proprio un mese e mezzo mi sveglierò nel cuore della notte Terrorizzata dopo avrei visto tutto questo Allora Cerchiamo di dimenticare immediatamente ciò che è successo Sì assolutamente Andiamo a fare un po' di attività Tennis Per dimenticare Capite Così almeno lo sport un po' ti distrae Lo spero Non ti avevo detto nulla Ma questa non è una semplice partita di tennis Quindi leggiti bene i tasti Sai cosa succede a chi vince? Mhm Decide come spendere i 500.000 del club Ah no Quindi tra garage, armi eccetera Ok Quindi è molto importante questa partita Allora io non ci ho mai giocato Non ho idea di come sia Allora con Wast ci muoviamo Avanti e indietro Almeno ci ho cambiato le scarpe Le hai viste? Ok già qualcosa Noi mi muovo Backspin, topspin, colpo normale Ok Cioè ma è serissimo Potentissimo Uè Fallo Fallo Ok vai è il secondo Aspetta è difficilissima Ce la puoi fare? Tu non hai capito che è più difficile della realtà questa? Sì credici Nella realtà è davvero complicato giocare a tennis No no Sono pronta a ricevere Devo riandare Fai un bel servizio Non me la sento Dai che ce la fai questa volta Uè No 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 Cioè È impossibile Non hai capito Voglio rifare le missioni Sono più semplici Bim Incredibile L'ha presa Ce l'ho fatta Sto capendo Boom No Ti ho preso nella schiena No io non la vedevo molto più indietro Ho sbagliato per quello Ok game vinto Cambio campo DJ cambio campo Ok tocca a me servire Vediamo se ne sono in grado Sei pronta Vai Tutta pronta Hai bevuto un po' d'acqua Più o meno Vedo a correre Spetti Ho paura Vado Vai Vai Vado Boom Ok Boom Ok Oh mamma mia è difficilissimo Ho provato un altro effetto No Boom Te l'ho presa lo stesso Ok Ho fatto backspace e la mollata Cioè ma fai schifo Tu mi dici prova i colpi diversi E poi fai perdere Hashtag Ferrenicheltennis Due cose diverse E oltretutto io vi dico una cosa Sì Uno spoiler Ok A marzo andremo a giocare davvero a tennis E faremo le scommesse Tipo nella mia prima lezione Quante persone faccio fuori Perché Steph ci sa già giocare Io no Quindi vedremo Quante persone moriranno Con Ferrenicheltennis Se ci riusciamo Faremo anche delle riprese Vedremo un pochettino Sì assolutamente Ma adesso cerca di concentrarti E hai due game Soprattutto per difenderci legalmente Nel senso che se qualcuno muore Non era volontario Ok Dimostri che non era volontario Esatto Mi sembra sensato Vai Uff Ok Che cos'era? Un tiro strano Ma un altro Mamma mia sta diventando intensa la partita eh Con che intensità Uè Tiro strano Uè Guarda Grazie Non ci credo Ha capito come si gioca Ora mi devo concentrare Allora the backspace non mi fido più Ok Solo tasto destro Vado ogni tanto per fregarti Questo È il servizio più forte di sempre Vai son pronta Ok Son pronta Come miro? Guarda come corro Son prontissima Ah ok Si Capito? Si Vado E vai No Ho sbagliato No No È troppo lontana Ma sbagliando me l'hai tirata dall'altra parte del campo Perché ho cliccato esco per sbaglio Ti odio Non era volontario Ho voluto rendere il golf un po' più estremo Cioè c'è talmente tanta pioggia che io non vedo neanche dove devo andare Dov'è la buca? Dov'è? Dov'è? Cioè qual è? Non lo so Sono solo che hai 50 secondi Ok Io ho fatto massima potenza e non si è mossa Per quale motivo? Forse perché piove Aspetta dai Vediamo se io capisco qualcosa Allora È quella quindi? Credo di sì Vedo solo quel paletto Lo vedi? Non si capisce nulla Ok Allora Non avevi capito nulla con la potenza Io sono andata con la potenza No non è come il tennis che quello giallo è la cosa più potente Fuori limite È anche esagerato È esagerato No guarda è verso il basso la massima potenza No la mia era diversa invece era verso l'alto Mira parecchio a sinistra perché c'è un vento incredibile verso destra Dice a sinistra? Verso sinistra perché il vento è verso destra Esatto Ok Colpo potentissimo Vado Boh Che missile Come su Reciaferenichi È andata Hai fatto un metà campo eh Sì Bellissimo Bel colpo infatti ti ha detto 220 metri Ok Nella realtà o meno è la vita Allora Ok vai Voglio recuperare questo tiro Questa è la mazza giusta Sì Boom Non è la sabbia ti prego Ok rotola Ok Pareggio Ah guarda quasi pari Pareggio 216 Io 220 quindi praticamente vicinissimi E infatti ritocca a me vedi Perché tocca a quello che è andato peggio Capito Allora C'è molto vento No perché Sì invece Il golf è un po' tutto al contrario Vai Ok me lo sento Boom No L'albero mi ha bloccato un sacco il colpo Il vento è un po' contrario Quindi un po' di potenza in più gliela devo dare Un po' verso qua Quindi 82% di potenza Così Cioè guarda gli alberi Però Incredibile È andato È andata benissimo Sì È andata benissimo Anche tu sei vicina Puoi calcolare bene e fare un bel colpo Che tiro bruttissimo No no Guarda Guarda Quasi pari Quasi pari Sei più vicina tu mi sa Oh io non li so fare questi tiri così vicini È complicatissimo Non so che è complicato Vabbè Il prossimo non lo sbagli per forza Sì però era penoso questo Allora Neanche vicino Vediamo se a te va meglio Ce l'hai molto vicina eh Puoi farcela Lo so Credi in te E nel tuo cuore Vai Ho paura Ce la puoi fare Ho paura È dentro Da me sei bagata Come È rimasta davvero lì Non ci credo Non ci credo Ma che sfiga che hai avuto Dai No no Sto per piangere Dimmi che non era un colpo perfetto Era bellissimo Ero troppo emozionata E me ne sono accorta Perché il personaggio ha fatto No Capi Ho vinto Scusa Non è giusto però Era mia questa vittoria Cioè hai buggato la pallina È colpa tua Non l'ho buggata io È colpa tua Sì che l'hai buggata tu Comunque Con la pioggia È colpa tua Compare adesso un sondaggio Nella testa di Ferinichi E ci vede a sapere Se una delle future challenge La volete su questi sport Perché a me personalmente Hanno divertito un sacco Sono fatte bene Sono seri Io pensavo fossero un po' più Scialeschi Mettiamola così Quindi ho detto Oggi super relax No c'è anche Anche freccette È serissimo È più serio che nella realtà Cioè nella realtà Fai cose Probabilmente dicevo che Cioè di andare a giocare a tennis Probabilmente ho meno difficoltà a giocare Nella realtà Che su GTA Davvero Sono proprio serie Tutte le cose Telle opzioni È stranissimo Come devi giocare Però belli Sono molto divertenti Fatti bene Stavo controllando le cose Nel portatile E non so bene Per quale motivo Ma è tutto scontato In questo momento Evidentemente Come abbiamo trovato Tanto oggi scontati Ci sono anche le attività E le cose Che possono ricevere Degli sconti Di se io trovavamo Gli sconti Sono nelle munizioni Oggi i tatuaggi E i vari locali Alla grande Ma poi i locali Una figata Quindi secondo me Ne dobbiamo per forza Approfittare E sai quale ti propongo? Vai Quello delle banconote false Perché il meno costato Sarebbe ufficio e documenti Poi c'è la serra di erba Che mi ispira abbastanza Però le banconote false No secondo me È più divertente quello Dai così facciamo I documenti falsi Tutto falsificato Banconote Documenti Eccetera eccetera Almeno proviamo altre cose Quanto costava? Eh 850.000 Lo paghiamo a 630 No dai sì 200.000 di sconto Io sinceramente avrei preferito Qualche miglioria del club Anche io Di fronte a questi sconti Esatto No no Io volevo prendere Te lo dico O il garage O quello delle armi Però nel momento Io l'officina avrei voluto Anche perché Non commento Che con l'officina Ti puoi modificare la moto Non so se sia gratis Ma almeno comunque Ce l'hai sempre qua E sarebbe una figata Quella sarà una delle prossime cose Che prendiamo Sì 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 Ok Quindi a questo punto Prossimo episodio Dobbiamo assolutamente Riempirci di scorte Per entrambi i locali Così iniziano A fruttare un sacco di soldi E sarà divertente Secondo me Siamo iniziando a entrare Veramente nel giro d'affari E sarà una figata pazzesca Per ragazzi Lasciateci un like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao